Come sintesi giornalistica possiamo dire una trasparenza digitale impermiata sui social e sull'interazione diretta con i cittadini? Assolutamente una sintesi che rispecchia il mio pensiero perché secondo me la velocità e la trasparenza sono l'etichetta della digitalizzazione. Quindi io credo che questo possa fare quel cambio di passo che ormai i cittadini si aspettano. Grazie a tutti